Mi viene un dubbio. Ci chiamavano il Bel Paese. Lo siamo ancora? No, perché guardando i funerali di Berlusconi mi sono chiesto. I grandi della terra, tutti amicissimi di zio Silvio, dove erano seduti? Beh, d'accordo, Putin non poteva esserci, se no lo arrestavano. Ma gli altri capoccioni dell'orbe terraqueo, dove stavano? Accidenti, il povero Mattarella, chi aveva seduto accanto? L'emiro del Qatar. E dietro di lui, Orban Lungherese e i capitani reggenti di San Marino. Almeno ci fosse stato Emilio Fede. Ma che? L'autista ha buttato le chiavi e lo ha abbandonato. Ah, e l'Elemora? C'era l'Elemora? Chissà. Non benvenuto? Ma...